Allora, il problema è che lo stadio è diventato un catino largo ed è stato senza controlli e senza considerazioni di questo tipo per troppo tempo. Si è raccolto di tutto in questa specie di centina. Il dirigente Migliari diceva, ma anche tu, gente che va a sfogare proprie questioni, al di là dell'aspetto sportivo, dell'aspetto del pathos della contesa, che è quello che dovrebbero richiamare le persone. Il pathos di una sfida giocata nel rispetto delle regole e dell'avversario. Questo dovrebbe essere il senso della cosa a cui si va a assistere a partecipare, anche attivamente, perché il tifoso può diventare anche partecipatore attivo. Tant'è che tanti chiedono ai propri tifosi di essere l'uomo in più in campo. Ecco, è una metafora che ha il suo senso. Gli insulti sono di qualsiasi tipo. Sono diretti contro l'arbitro, contro l'avversario, contro i tifosi. Non si può, credo, di colpo, sanzionare qualsiasi tipo di insulto con provvedimenti tipo chiudere la curva, chiudere lo stadio. Io credo che quello che sia stato fatto, nella consapevolezza proprio della complessità e della stratificazione dei tipi di insulto, e del tipo di atteggiamento antisportivo che hanno i tifosi, si sia partiti tenendo conto di una certa gradualità e di una certa gerarchia. Non si potevano più tollerare offese razziste, che era la cosa più grave, perché è la cosa più... Ma è la cosa che ti fa reagire anche nel tuo piccolo, nel tuo io, con della violenza. Ti viene voglia di diventare violento anche tu nel cercare di contrastare questa cosa odiosa. E poi soprattutto si vuole colpire questi atteggiamenti di protesta più collettivizzati. Ma ci sono curve che hanno esposto striscioni contro il giocatore di colore, cori cantati da migliaia di persone per il colore della pelle di quel giocatore. Questa cosa era la più intollerabile tra tutte le comunque intollerabili. Si parte dalla più grave e poi si scende, perché ce ne sono altre che non possono essere tollerate. Poi so anch'io che non puoi giustificare nulla neanche quando arriva l'insulto all'arbitro o anche quando al giocatore viene rivolto l'insulto nei confronti della mamma o della famiglia. Anche la parola bastardo è l'insulto alla famiglia come la parola figlia. Come fai in effetti a dire che ci può essere qualcosa da non tollerare assolutamente e altre che puoi escludere? Io credo però che non si possa pensare adesso di arrivare a provvedimenti così drastici e radicali come quelli che si stanno mettendo in atto a mo' di terapia d'urto, terapia forte, anche per queste cose più da... È come dire, si va sulle cose di grosso taglio e poi le cose spicciole. Io credo, credo, la dico a mo' di interpretazione mia, che si stia procedendo in questa maniera. Un problema grosso è che tu, con questi provvedimenti, colpisci tutta una tifoseria per la colpa di una parte che è quasi sempre poi minoritaria. Anche se a volte il minoritario è qualcosa, perché in uno stadio da 90.000 persone ne bastano... Ecco, ecco, è la goccia... Quindi c'è un problema che è vastissimo, credo che sia stato interpretato in questo modo ed ecco il perché di questo scalare di provvedimenti. Ecco, prego, ma è l'unica l'ora di portare il microfono ai nostri ospiti, così ci spiegano un parere. Sì, sì, beh, allora, parere sugli insulti, io mi associo totalmente a quello che ha appena sostenuto Massimo e credo anch'io che a un certo punto bisognava partire da un punto e poi fissare un'asticella e quella è l'asticella dell'intolleranza, da lì non si tolera più. Da sempre qualche... parlavi prima dell'arbitro, cioè io mi ricordo tanti anni fa, no? Fin quando ero bambino, che comunque l'insulto era per l'arbitro. Era difficile trovare che ci fosse questa cattiveria verso l'avversario, era per l'arbitro perché l'arbitro purtroppo è una categoria che deve soffrire in questo senso. Però era comunque un qualcosa che si può tollerare. Certi livelli di cattiveria, proprio di insulto, come dicevi prima, curve intere o migliaia di persone che mettono fuori degli istrissioni o inveiscono contro un qualcuno perché è diverso, questa intolleranza del diverso. Ma non esiste, ma è una cosa che è inaccettabile. E quindi l'asticella secondo me è stata messa per quello. Penso anch'io che comunque da un punto bisognava partire. E la scelta è stata sicuramente quella. Io credo che dovrebbe essere data un po' più di forza a chi ti fate. Quindi è un appello che voglio fare sempre da esterna. Quindi se invece che insultare o impegnarvi a scrivere questi striscioni, a picchiare uno perché è nero o di colore, o in qualche modo a usare le vostre energie per fare del male, ma incitate la vostra squadra ad andare ancora più forte. Secondo me è fatta del bene e non c'è penalità per nessuno. Eh, e basta. Grazie Monica. Ecco, io vorrei poi chiedere ad Alli, ma Alli tu ti senti un po' monella? Ti senti un po' monella? Sì. Bene, ecco, perfetto. Allora Monica, porta la sciarpa delle monelle ad Alli così. Io volevo far vedere anche questa. Molto bello, sì perché dobbiamo dirlo. Tu sei un po' polide ma stai cominciando a simpatizzare, lo so, per l'Inter, ma il tuo discografico è nero azzurro. Il suo cuore è nero azzurro. Perfetto. Appunto, quando ci siamo conosciuti, quindi 15 minuti fa, 20 minuti fa, mi hanno detto, ti andrebbe di metterti una bella sciarpa? Io la guardo e dico, belle, sì. Però è il mio discografico che le apprezzerebbe tanto, perché lui è interista, quindi un saluto a Max Moroldo. Ciao Max. Interista. Vai. Anche lui è contento. Per Max, esatto. A me non l'ha chiesto se volevo lasciare. Ma forse. Vi ripasso. Ecco, noi, sì, a Loris non l'abbiamo chiesto, perché come è, se gli è scappato da Italia, come sono intartagliato. Come vado? Ecco, non l'abbiamo chiesto al nostro amico Loris, perché lui è di una fede un po' particolare, che prima ha nominato, però lui è un uomo di sport, è veramente sportivo, anche noi lo siamo, e quindi ci troviamo qua a parlare di calcio, abbiamo ospitato molto volentieri, lui ha accettato di buon grado il nostro invito, come del resto la volta scorsa, Alessandro Dalla Salda, che era il manager, amministratore delegato di Palacastro Reggiana, che anche lui è di una fede diversa dalla nostra, calcisticamente parlando. Poi naturalmente chiariamo che noi invitiamo i rappresentanti delle squadre di Reggio, di vari sport, perché siamo l'Intercup di Reggio Emilia, siamo a Reggio, e noi tifiamo tutte le squadre di Reggio, la Reggiana naturalmente, siamo simpatizzanti, è la nostra seconda squadra, perché l'amore per l'Inter nel calcio, però la Reggiana è anche lei nei nostri cuori, e naturalmente anche il Conad Volley Tricolore. Ecco qui, volevo far vedere un attimo, inquadriamo la pagina della Gazzetta, questo proprio metteva a fuoco tutti gli argomenti, i problemi, qui c'è il derby senza curve, scommessa continua, e c'è anche una foto del signor Luciano Moggi, dopo il processo d'appello. E' suo ridente qua, è contento, contento lui. Benissimo, ecco qui, l'interessante, ci sono purtroppo, che poi le partite elencate, le partite indagate, sono tante, ahimè, e anche i grossi club, adesso se mi arrivo massimo, ci sono 30 gare di Serie A, è caduto il giornale, vabbè, tutto è caduto, ma solo chi cade può risorgere, non ricordo, ecco, allora noi, l'interno è un po' che risorge, diciamo, sono 30 partite, dove sono implicate tante squadre, purtroppo ci sono tre partite, che riguardano la nostra beniamata, ma ce ne sono anche alcune, che riguardano la Juve, che riguardano anche il Milan, quindi le grandi sono, un po' tutte sembrerebbero, poi adesso ci si sta indagando, questo non vuol dire assolutamente nulla, noi ci sentiremmo di dire che, almeno parlando da interisti, essendo anche un po' conosciuto l'ambiente, riteniamo che difficilmente qualcuno dell'Inter, possa essere coinvolto, ce l'auguriamo, ma vorremmo che non fosse coinvolto nessuno, purtroppo se c'è tutto questa cosa, qualcosa di vero, qualche cosa ci sarà, e adesso vorrei anche così, intanto fare i complimenti al Conad Vole Tricolore, perché è primo in classifica, dobbiamo dire, nel campionato di B1 maschile, le ha vinte tutte, ha vinto 7 partite su 7, vuole evidentemente fare un po' come la Roma, le ha vinte le prime 10, ma vuole fare meglio, diciamo che le vuole vincere tutte, Sì, perché poi la Roma dopo si è un po' inceppata, quindi questo, l'allenatore Cantagalli, Luca Cantagalli, è uno dei grandi, che ha fatto la storia della pallavolo italiana, ma non solo, europeo-mondiale, perché ha vinto tutto, campionati mondiali, europei, mi è mancato, gli è sfuggito, credo solo l'oro, c'è un argento olimpico, invece di l'oro, che è il crucio della nostra pallavolo, quindi adesso ti passo il microfono, Sì, ha un argento olimpico invece dell'oro, perché anche in quell'epoca in cui dominavamo il mondo, purtroppo non è venuto questo premio a un movimento che appunto in quel momento era sicuramente assolutamente il più forte in assoluto. Per quel che riguarda noi, sì, abbiamo vinto tutte le partite, abbiamo fatto due vittorie, le ultime due vittorie esterne sono state, al tie-break, quindi praticamente rispetto ai potenziali 21 punti sono 19, perché un punto col tie-break un punto si lascia all'avversario, però credo che è un risultato che noi sicuramente credevamo in questa squadra, avevamo puntato fortemente su un campionato di vertice, però a questo livello non lo pensavamo, soprattutto perché abbiamo messo assieme 12, 13 anzi giocatori che non hanno mai giocato assieme, quindi squadra tutta nuova, e giovane, perché abbiamo una media di età di 22,9, quindi neanche 23 anni. Perfetto, e adesso passiamo ad Alli, che adesso ci deve raccontare brevissimente qualcosa di lei, dunque intanto vorrei, guardavo se avevamo un cd, abbiamo la cartolina, ecco, ecco, la cartolina, se vogliamo inquadrare, la cartolina di Alli, che poi è, niente altro che una presentazione, credo, del suo cd, ok, lo spieghiamo, vuoi che la prendo io, la cartolina, ok, fai da Valletto, fantastico, allora, questa è la cartolina, che rappresenta, Sole di Festa, che è il mio singolo, e qua c'è un QR code, che con l'applicazione del cellulare, uno lo può scaricare gratuitamente, e visto che si tratta di Reggio Emilia, potete trovare le cartoline, qua al Vapesmoc di Reggio Emilia, quello centrale, quello grande, quello più verde, di Reggio, e quindi troverete le cartoline, da lì potrete cercarmi nel sito e quant'altro, è tutto qua, e mi allaccio al discorso della cartolina, perché questa cartolina è stata fatta, per l'occasione, che ho collaborato, diciamo, con la Gazzetta dello Sport, con l'evento nazionale, The Color Run, che è la corsa non competitiva, di 5 km, che è stata fatta in diverse tappe, quest'estate, io ero la testimonial, e il brano Sole di Festa era appunto la colonna sonora dell'evento, e quindi diciamo che la tappa più importante è stata a Milano, dove c'erano 10.000 persone, che colorate da capo a piedi, perché l'evento è bello, perché è una corsa, a tutti gli effetti, dove a ogni chilometro c'è un colore diverso che viene lanciato, quindi le persone arrivano sotto al palcoscenico coloratissime, e quindi c'è esplosione di colore, musica, e quindi è anche bello quando c'è l'unione tra la musica e lo sport, in questo caso non c'è un pallone, ma c'è diciamo un bel po' di gente che si rincorre, diciamo, per arrivare a sfogarsi, in questo caso positivamente, perché è sotto un palco, a cantare, a urlare, a divertirsi, senza insulti, quindi riallacciandoci al prima, quindi lo sport è bello anche, secondo me, senza per forza dover fare del male, o farsi notare in qualche modo, e quindi brevemente questo, quindi se venite qua al Vapesmoc di Reggio, potete contattarmi in qualche modo. Io rubo il microfono, rubo il microfono, no perché mi è venuta in mente una cosa, perché dunque, sappiamo che Alice sta per essere, un pallone c'è, Alice sta per essere protagonista di un evento canoro internazionale che la lancerà sulla scala dei confini ultranazionali, ma ecco, evento internazionale, la parola internazionale, Carlo, diciamo qualcosa anche a te, allora sai, non sai a me cosa fa pensare, no perché la Juve con le curve chiuse, cosa ha fatto? Ha messo lì dei bambini, poi gli ha fatto prendere la multa, questi bambini, perché urlavano la parolazzo ogni volta che il portiere rinviava, no noi cosa facciamo? La curva vuoto, noi mettiamo Alli, che oltre a essere brava è anche bella, e la mettiamo lì con questo microfono, a cantare l'inno dell'Inter, l'inno internazionale, sì, 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 allora io però, prima di passare il microfono a Carlo per la chiusura, visto che è l'ultima puntata di questo TG prima del Natale, vorrei fare gli auguri senza, però anche stavolta, l'Inter, sempre l'Inter al centro, no, l'Inter non la consideriamo, anzi, facciamo gli auguri al Milan di uscire sconfitto dalla partita di domenica prossima, e poi Carlo chiedo anche adesso se vuoi dire qualche cosa, anche perché abbiamo una cosa del nostro libro, Sandro Mazzola, che proprio qui a Reggio abbiamo presentato, se vogliamo ricordarlo. Lo ricordiamo, mi fa da Valletto Massimo, perfetto Monica, qui il pallone, e questo è il libro, ho scelto di stare davanti alla porta, scritto da Sandro Mazzola e Marco Civoli, il vice direttore di Rai Sport, non vorrei sbagliare, scusami Marco se mi sbaglio, comunque un grande giornalista, amici, hanno scritto insieme questo, che è la biografia di Sandro Mazzola, che quindi parte da quando è bambino, fino a quando praticamente tutta la sua carriera da calciatore è da dirigente di calcio, con tanti episodi, tanti racconti inediti, che quindi si può andare a sfrugugliare, e capire anche nelle pieghe come funziona quel mondo, che noi vediamo, leggiamo per televisione, vediamo magari allo stadio, ma non sappiamo effettivamente le cose come a volte avvengono all'interno, ma direi che questo libro lo centra perfettamente, qui si parla anche di trattative di mercato storiche, di colpi di mercato che Mazzola ha portato a buon fine, altri che magari non sono altri buon fine, ma non per colpa sua, comunque un bellissimo libro, è un bel regalo di Natale che potete farvi o fare ad altri cuori nerazzurri, ricordate quindi, ho scelto di stare davanti alla porta, mi pare che l'editore sia Lumina, Lumina, lo potete trovare qui a Reggio Emilia, prima per la libreria Uber, e adesso ci facciamo gli auguri, auguri di Natale, e come ha detto, tralasciando diceva l'Inter, auguri a tutti, a tutti gli sportivi, a tutti gli interisti e non, naturalmente, come ha detto Massimo, mi associo all'augurio al Milan di non fare un punti O per Natale, una partita che precede, insomma, il derby è il derby, noi dobbiamo assolutamente vincerlo, quindi mister, mi raccomando, ragazzi, regalatici almeno questa gioia, dico almeno, perché, insomma, ci troviamo in un momento un po' di difficoltà, ci siamo un po' allontanati e vorremmo festeggiare con un derby, che cosa c'è di meglio che con un derby vinto. E per chiudere, in bellezza, in bellezza con Monica Porta, adesso vorrei il microfono a dargli, vorrei che Allie ci accennasse qualcosa, mi piacerebbe che ci accennasse l'ino dell'Inter, ma ci può dire, un forza inter musicale, e poi magari ci puoi fare una strofetta, io mi esprimo in modo molto basico, una strofa, magari del suo CD, del suo pezzo indiano. Allora, per l'inno Inter, forza, 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 Inter, ok? Un jingle, eh, fatto! Facciamo un pezzo di storia di festa, strofetta. Quando guardo dentro te, giro il mondo, in un secondo, chiusa in una scatola, è virtuale, comunicare, vivere come una star, avere tutto, senza pagare, e dove si va? Non c'è più la mia città, in fondo si sa, non c'è vita qua, fiesta, festa, un sole di festa, accendi il ritmo, inizia la festa, basta un'ora fuori di testa, non c'è siesta, inizia la fiesta, fiesta! Buon Natale! Grazie. Allora ragazzi, qui adesso si brinda, perché è la puntata di Natale, e noi adesso ci facciamo un bel brindisi, brindiamo a noi, a tutti gli sportivi, all'Inter in modo particolare, al mister, fai cosa a modo, mi raccomando, adesso Monica ci versa il Nettare, prima il presidente dell'Intercav di Reggio, mi sembra evidente, e poi passiamo agli ospiti, brindiamo naturalmente anche al Conad, a Lalli e ai suoi successi, ma i successi di tutti gli emergenti, cantati emergenti reggiani, dai, e di tutte le società sportive reggiane, ecco, mi piace Monica, in versione natalizia, beve anche lei, e adesso vogliamo anche, chiamiamo anche gli amici della Vap e Smoke, qua a brindare con noi, ci mescoliamo tutti, chiamiamo anche Claudio, il nostro operatore, auguri, buon Natale, auguri a tutti, forza Inter, cin cin, cin cin, i manager, cin cin, scusate, mi raccomando, tutti alla Vap e Smoke, e tutti a vedere le partite del Conad, e naturalmente tutti a sentire Lalli, dov'è che canti? Eh, ora, prossima volta, domani sera, a Parma, però sarà una cosa di poesie, musico e poesia, poesia, è comprare il cd, Parma dove? Dici dove? Aspetta che ho bisogno di un consulto, dove? Auditorio Toscanini, Auditorio Toscanini, perfetto, noi invece ci vediamo a San Siro, ci vediamo domenica 22, alle 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza, per Inter Milan, forza Inter, buon Natale, auguri, 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 grazie a tutti, 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 Grazie a tutti